E' ormai da tempo uno dei parcheggi più usati per chi si reca in centro e quello comunemente chiamato degli ex capannoni dei cari o sferisterio per le sue passate vite. Ora è il parcheggio lungo viale 12 settembre. La vicinanza di una delle vie più commerciali del centro, via Cavour, la presenza di una farmacia con orario continuato, la vicinanza dell'ospedale e ambulatori di medici di famiglia tutti quanti massimalisti e l'assenza di pedaggio crea un turnover di auto massiccio per tutta la giornata. Questa pesante mole di traffico che essenzialmente si svolge ad anello ha notevolmente usurato il fondo stradale. Sono moltissime le segnalazioni che ci arrivano in redazione di utenti che ci segnalano e ci chiedono da tempo di evidenziare questo disagio che ora sta diventando sempre maggiore perché siamo passati dal fondo dissestato al fondo bucato. Sono innumerevoli le profonde buche che si sono create esattamente dove passano le ruote delle auto, alcune veramente grandi e profonde. Evitarle è quasi impossibile, conseguenza andare a sbattere contro le auto parcheggiate. La situazione peggiore è poi in corrispondenza della rampa d'uscita dove le auto passando e ripassando sempre solo in quel punto hanno scavato veri e propri solchi, quasi fossero un aratro. Nei giorni di pioggia poi come questo, se fosse possibile le cose peggiorano anche dato che le buche alle volte non si scorgono nemmeno. In attesa che si conosca quindi il destino dell'area dell'ex AGIP, giardino o parcheggio, questo rimane con i suoi stalli l'alternativa migliore per la zona e pertanto gli utenti vorrebbero che il comune rifacesse il fondo o che perlomeno gli operai ci buttassero un paio di sacchi di agglomerato bituminoso come fanno da altre parti per tappare i buchi. Considerando anche che dai medici spesso si recano persone anziane sole o accompagnate e che spesso non riescono a coprire lunghe distanze.